Torniamo indietro con gli anni e invece di usare la nostra gara finestra usiamo questa tavoletta della Pritt che si illumina e serve per ricalcare i nostri disegni. Quindi prendiamo il disegno da ricalcare, un foglio bianco, un foglio A4, uso quello di stampa, le mettiamo sulla nostra tavoletta, utilizziamo le clip che vengono date al momento dell'acquisto, nella confezione, addirittura ci viene data anche la matita, nella confezione accendiamo la tavoletta e sì, la tavoletta si illumina, ma a quel punto basta semplicemente andare a ricalcare il nostro camivetto senza lasciare le nostre manate sulle finestre e anche senza avere quel divertimento che c'eravamo quando eravamo piccolini. Grazie.